eccomi buongiorno sono sul treno in direzione per milano faremo il cambio a perché domani mattina partiamo per parigi the say that I was clever we go down we go down together we'll get away with everything we'll show them we are better we were staying in paris allora io ho preso un classic cecchini e cecchini burger ai sette cereali no pane ai sette cereali burger di cecchini e il flour trucco fatto chiuso la valigia sono arrivata anche puntuale vero? sono stata puntuale puntualissima e adesso andiamo all'aeroporto comunque sono salita la prima video su questo non ci sono veramente dubbi siamo finalmente in aereo stiamo per partire vorrei capire se c'è il wifi potrebbe essere veramente della svolta durerà un'ora e quaranta è un volo? si? più o meno e quindi ci aggiungiamo poi da parigi ciao a colore andiamo a vedere la nostra camera c'è una busta c'è una busta che piccata ecco questo è tipo lo stile di armadio che vedo io nella mia cameretta va bene ci sta eccomi e adesso andiamo a vedere il bagno ciao anche a te oh figata tutto in marmo mi piace un sacco comunque adesso mi metto un po' in ordine faccio il trucco faccio il trucco sistemo un po' i capelli mi cambio perché abbiamo alle 3.20 una sorpresa io sono stra 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 curiosa allora che c'è la mia agenda? con tutto quello che dovremmo fare in questi giorni poi una letterina per me grazie apriamo un po' sei pronta a essere parte della leggenda? ci vediamo questa notte ciao 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 il mio ragazzo dice che mi sembra qui non è traslimento in cui in cui in cui in cui in cui in cui Grazie a tutti 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 Grazie a tutti